Multimotors SRL, concessionario ufficiale Piaggio Vespa Gilera. Da noi grandi promozioni, Liberty 125 a 1.990 euro, Beverly 300 a 3.990 euro, Vespa LX a 2.990 euro, Vespa GTS 300 a 4.390 euro, a Davola in Via Siracusa 96, telefono 0931 56 46 56, a Siracusa in Contrada Pantanelli, telefono 0931 60 022, Ludoteca Fantasilandia, giochi, animazione, Baby Parking, il luogo ideale in cui festeggiare il compleanno del tuo bambino, anche a casa tua. Fantasilandia organizza per il 3 marzo la festa di carnevale con balli di gruppo, animazione, giochi e tanti scherzi. Dalle 16 alle 18 per i bambini dai 3 ai 5 anni, dalle 18 e 30 alle 20 e 30 tra i sei anni in su. Prenota entro il primo marzo per una serata indimenticabile al 349 08 28 347 in Via Mameli 133 ad Avola. FB elettro sud impianti, installazione impianti fotovoltaici, sistemi solari e termici, impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di sicurezza e videosorveglianza. Ad Avola in Via Siracusa 55, telefono 0931 83 28 13.